Allora ragazze, tra poco è Natale, cosa vi volete regalare? Mangiare tanti icis! Io chiederei cosa per fare il gel alle unghie, il fornetto per il gel alle unghie. Ma dai, che smorta! Io direi tre chili di Nutella. E io una bella cucitura agli addominali. Allora noi a Sport ci piace tantissimo, è una bella pagina, seguiamo tutti gli articoli e ringraziamo chi li fa. E la seguiamo anche su Facebook, quindi a tutti quelli che vedranno questo video diciamo di andare a seguire su Facebook. O a Sport. O a Sport. Scusate, andate a seguire tutti. O a Sport. Avete capito? O a Sport. Ciao. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buone feste, buone sorprese.